Continuano a lavorare a ritmo decisamente frenetico le farmacie di tutta la Toscana per i tamponi di coloro che non hanno ricevuto il vaccino e devono sottoporsi ad un test ogni 48 ore per avere il Green Pass. Lunedì scorso il record con oltre 28.400 tamponi effettuati, numeri che però restano costantemente sopra al livello di guardia. Il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Figliuolo, ha chiesto alle regioni di agevolare le farmacie affinché possano continuare ad effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio nelle giornate di chiusura e nei casi in cui i soggetti non si sono prenotati. Bene la sollecitazione ad estendere gli orari di apertura, dice la Nazione Sergio Bottari, presidente di Federfarma Toscana, che rappresenta circa un migliaio di farmacie in tutta la regione, ma non è comunque facile risolvere la situazione. Anche volendo incrementare il personale è molto difficile trovare professionisti disponibili. L'idea di lasciare posti liberi per chi non ha prenotato si applica male di fronte ad una pressione costante delle stesse prenotazioni, dice il professionista. Cercheremo di fare il possibile, ma occorre ricordare che le farmacie hanno anche altri compiti. Abbiamo persone che stanno facendo tamponi, ma che hanno anche prenotato il vaccino, dice Bottari, e pertanto 15 giorni dopo la prima somministrazione avranno il Green Pass uscendo dal meccanismo. Esiste però uno zoccolo duro che non intende vaccinarsi e che ha già prenotato i test fino a dicembre. È difficile pensare a degli investimenti, dicono ancora i professionisti, in questo caso dalla CISPEL, per un fenomeno che potrebbe durare soltanto qualche mese.